Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. La guerra contro le fake news è ufficialmente aperta. Anche la RAI l'ha annunziata, istituendo una specifica task force, come l'appellata con l'ormai usuale anglofonia cara ai mercati, il nuovo latinorum del globalismo capitalistico. Precisiamolo subito, la lotta appassionata per la verità e contro le menzogne è il compito primario della filosofia, almeno fin dal suo cominciamento in senso proprio con Socrate. Vi è però una piccola ma non lieve differenza rispetto alla suddetta task force. Se Socrate combatteva il falso e quelle opinioni non vere che oggi andrebbero sotto il nome di fake news, ebbene Socrate lo faceva con il dialogo e con la dolce forza del logos. Non certo con tribunali, task force e bavagli tesi a silenziare l'interlocutore. Il vero problema della questione delle fake news, vorrei fosse chiaro, è di ordine squisitamente teoretico e insieme politico. Primo punto, dire che il re Luigi XVI non fu ghigliottinato il 21 gennaio del 1793 è una menzogna o se preferite una fake news. Secondo punto, dire che il re Luigi XVI fu giustiziato per i suoi crimini o che fu assassinato vigliaccamente, capite bene, rinvia due diversi modi di interpretare la realtà. Chi sostiene la prima posizione può provare a confutare razionalmente chi sostiene la seconda e viceversa, o può in alternativa imporre d'imperio la propria prospettiva, delegittimando a norma di legge l'altra, magari con l'accusa di fake news. Si passa così dal piano teoretico a quello politico. Ora, secondo voi la battaglia contro le fake news si fermerà al primo punto o non si spingerà anche al secondo? Forse, se avete a cuore il dibattito razionale, spererete che si fermi al primo, ma nulla comunque garantirà che non vada anche al secondo punto. Una volta legittimato il reato d'opinione, di questo si tratta, non ve più limite alcuno. La mia tesi è che usano il primo punto, ovvio e quasi logico, per poter passare poi al secondo, ossia per poter punire a norma di legge tutte le interpretazioni che non siano organiche al blocco dominante, al potere vigente, alla classe egemonica e al suo ceto intellettuale di rappresentanza, che per inciso è quello che con apposite commissioni neo-inquisitoriali deciderà quali tesi sono vere e quali tesi sono false. Marxianamente la classe dominante domina anche sul piano delle idee e le idee vere sono per la classe dominante quelle che giustificano il suo dominio, false sono quelle che non lo giustificano o addirittura lo mettono a repentaglio. La domanda in fondo è una sola. Può una democrazia permettersi di ospitare al proprio interno anche l'errore e l'opinione falsa e perfino menzognera? Chi come Socrate odia il falso e la menzogna dovrà rispondere chiaramente sì, una democrazia può, e non perché ami la menzogna, che anzi avversa, ma semplicemente perché mettere fuori legge la menzogna apre la strada alla possibilità di mettere poi fuori legge come menzogna tutto ciò che non sia allineato con l'ordine del potere. L'esempio del re ghigliottinato mi pare evidente. Lo dico senza perifrasi. In democrazia dovrebbero avere diritto d'espressione anche le tesi false, come quelle di chi dicesse che il re Luigi XVI non fu mai giustiziato. Sarà facile confutarle con la docile forza della ragione. In questo modo si eviterà che per legge, insieme con il diritto di dire il falso, venga eliminato anche il diritto di dire ciò che non piacendo al potere, il potere stesso dichiarerà egualmente come falso. È il solo modo questo per mantenere la circolazione delle idee nella sfera del dialogo e del procedere scientifico per tesi e per confutazione, cioè per evitare che si trasli nel ben più insidioso piano del vero e del falso sanciti per legge dal potere, con annessa limitazione della libertà di ricerca e di opinione.